gentili telespettatori buona giornata a Bari continuano le scaramucce e le liti per le elezioni che ci saranno da quelle parti avete visto lo scandalo dei voti comprati in più Emiliano che dice di aver portato De Caro dalla sorella del boss te lo affido come dire te lo metto sotto la tua protezione mamma mia se potessero ascoltare queste cose i giudici Falcone e Borsellino rimarrebbero così con la bocca aperta però quelle erano leggende sono sono delle leggende italiane questi sono politici di cui vergognarsi vuoi mettere delle leggende come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone o Emiliano e De Caro che vanno dalla sorella del boss mamma mia mamma mia come state così a Bari c'è un bel casino se mi permettete questa parola un po così casino bene Michele Laforgia candidato dei 5 stelle dopo lo strappo di Conte che ha chiuso al campo largo col PD dopo lo scandalo voto di scambio fa un sostanziale passo di lato non rimette la candidatura ma rimetto la mia disponibilità le forze che mi hanno sostenuto insomma attende il risponso della coalizione di centrosinistra o presunta tale il suo nome quello di Vito Leccese o entrambi sta alle forze politiche decidere non a noi due a fermare la forgia mi sembra assolutamente corretto perché Michele Laforgia dice questo se PD e 5 stelle vanno uniti ho grosse probabilità di vincere se PD e 5 stelle vanno disuniti ho la certezza di perdere chiaro no quindi lui dice mi sentivo già quel posto di lavoro adesso questi che litigano e io ci vado di mezzo quindi intelligentemente questo Michele Laforgia dice io rimetto la mia disponibilità le forze che mi hanno sostenuto quindi mettetevi d'accordo poi mi fate sapere no così magari non sto a perdere tempo perché quando sei sicuro di perdere non ci stai a perdere troppo tempo o no non è che ti ammazzi facendo comizi dalla mattina alla sera quando sai che possibilità di vincere non ne hai la prendi un po così dice vabbè dai l'importante è partecipare una cosa è sapere che hai due partiti che ti sostengono e te la giochi o vinci allora è un'altra cosa ma quando sai già che vai a perdere che fai stai lì a buttar via il tuo tempo ecco così l'annuncio arriva in conferenza stampa durante la quale ha comunicato la decisione anche al movimento 5 stelle credo sia arrivato il momento di rimettere la mia disponibilità alle stesse forze politiche che l'hanno sostenuta la convenzione per bari e il movimento 5 stelle dice saranno loro i movimenti e le associazioni decidere cosa fare come con chi e ancora ha parlato di minuetto chiesto a lui e alle cese l'altro candidato in corsa con il pd minuetto a cui sarebbe stati costretti dopo lo stop di conte alle primarie dice non ho deciso io di candidarmi a sindaco ma vado dove mi è stato chiesto di andare da numerose forze politiche movimenti è stato chiesto di fare passi indietro passi di lato questo non è compito dei candidati ma delle forze politiche voglio un altro candidato un'altra candidata lo vogliono bene vogliono convergere su uno dei due lo indichino e assumeremo le nostre decisioni dice la forgia in ogni caso aggiunge di non tirarsi fuori dalla corsa a sindaco non ho intenzione di tirarmi ritirarmi a vita privata resto a disposizione del centrodestra in attesa di capire quale impegno mi ha chiesto conclude la forgia forse centrosinistra hanno sbagliato bene a questo punto vedo che agli elettori tutti questi problemi non interessano assolutamente io vedo che voi magari che seguite questo canale siete magari particolarmente interessati alla politica volete sapere tutti i giorni cosa succede ma ricordatevi che all'italiano medio l'italiano medio queste cose neanche le sa sa che c'è l'elezione devono andare a votare se vanno a votare io voto per la sinistra io per la destra e non sanno nulla di quello che è successo niente e molti votano semplicemente per tifoseria io voto destra qualsiasi cosa succeda io voto sinistra qualsiasi cosa succede quello ha rubato quello ha comprato i voti quello va dalla sorella del boss all'elettore medio non frega niente diceva vabbè non lo so io voto destra io voto sinistra quindi tutte queste cose queste beghe diciamo ma adesso andranno a perdere perché nel pd pensano adesso con il caso dei voti comprati il pd è finito a bari ma va magari vincerà ancora perché all'elettore medio lettore medio cosa fa il classico elettore medio entra al bar mentre ordina il cappuccino e la brioche guarda sul tavolo che c'è il giornale lì il quotidiano legge il titolo e poi continua a bersi il suo cappuccino e a mangiarsi la sua brioche legge il titolo non non legge l'articolo legge il titolo magari non riesce neanche a leggerlo completo ne legge un pezzo perché sta passando ho letto un pezzo che me ne frega a me ecco questo è il punto che me ne frega a me questo è il senso dell'elettore italiano non gliene frega niente di niente e poi parliamoci chiaro la metà degli aventi diritto non va neanche a votare non va neanche a votare quindi 46 milioni di aventi diritto al voto vanno a votare 23 milioni 23 milioni su 60 milioni di quei 23 milioni che votano poi magari c'è un partito che prende il 20 per cento ma è il 20 per cento su quei 23 milioni non su 60 milioni e quindi quel 23 per cento a malapena vale un 9 per cento una roba del genere ecco insomma quando si dice quel partito ha vinto o stravinto poi magari ha preso il 20 per cento che in realtà sul totale di quelli che hanno votato è un 8 per cento sul totale degli aventi diritto è un 8 per cento o sul totale degli italiani quindi questo è quanto io vi ringrazio vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video di là su tele italia ricordatevi questo è tele italia seconda rete c'è tele italia cercatelo come pro come canale e un altro grazie a tutti nuovamente buona giornata